Ma è impressionante! Che bravo! Il tuo livello di combattimento è arrivato a 40.000! Il vecchio aveva ragione. Tu ti distingui dai tuoi simili e sembri anche piuttosto pericoloso. I miei complimenti mi hai lasciato senza parole. Tu sei che puoi essere definito un vero guerriero. Mi piacerebbe averti tra i miei uomini. Però lasciati di dia un paio di informazioni utili sul mio potere distruttivo. Visto che dobbiamo combattere, mi sembra giusto che tu sappia cosa ti aspetta. Il mio livello di combattimento è di 530.000! Ma non effetto sfruttare al massimo le mie capacità per battermi con te. Perciò puoi rilassarmi. Diciamo che affronterò questo incontro usando soltanto la mano sinistra. Sarà molto divertente, te lo posso assicurare. Sei un paramutto! Bel colpo, muso verde! Vedendo che ti avvicinavi ho spostato leggermente il collo in modo che non potessi mancarmi. Ma purtroppo, mi hai fatto soltanto il solletico. Io detesto il solletico. Non sono un parametro... Non è un progetto! Non è un progetto! Non è un progetto! Niente! Non è un progetto! Grazie a tutti.